è stata una partita importante molto intensa sotto l'aspetto agonistico sotto l'aspetto tecnico i primi due set è stata abbastanza verso la nostra poi loro hanno iniziato hanno iniziato a giocare come sapevano hanno aumentato il loro side out e iniziò a difendere come 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 appunto sapevano fare e quindi ci hanno messo un po in difficoltà noi siamo stati bravi a non mollare di testa essere a rimanere tutti uniti e quindi questa è veramente una vittoria di carattere come ci portiamo a casa tante emozioni tanto tante cose sotto l'aspetto tecnico e sotto l'aspetto emotivo è stata una partita difficile nonostante quello tre punti importanti bravo alla squadra che non è emolata in un'atmosfera molto calda con una squadra che è uscita a combattere contro noi dal primo punto ci ha messo in difficoltà però siamo stati bravi nonostante la bravura degli altri di stare in partita e addirittura di controllare il ritmo tranne in terzo set ovviamente contenti perché volevamo fare tre punti e l'abbiamo fatti è chiaro che la squadra c'è il gioco della squadra ha dimostrato degli alti bassi in tutti i set anche in quelli vinti e questa è una cosa che insomma sulla quale stiamo lavorando può capitare e ci sono stati anche dei momenti in cui la squadra avversaria ha giocato alla grande e altre invece in cui noi l'abbiamo agevolato e questo dobbiamo eliminarle grazie a tutti